E' stato sottoposto ad esame autoptico il feto di 40 settimane trovato senza vita in un'abitazione di Grimaldi nel Cosentino. Nelle stesse ore la procura di Cosenza ha decretato in via cautelativa l'iscrizione nel registro degli indagati della madre 22enne del neonato partorito in circostanze ancora da accertare alle soglie dell'ottavo mese di gestazione. Il macabro ritrovamento è stato fatto dai carabinieri che giunti nell'appartamento della donna hanno trovato il corpicino del neonato. La squadra dell'ufficio di polizia di frontiera di Gioia Tauro ha arrestato presso lo scalo portuale un cittadino montenegrino di 35 anni Darko Radulovic, comandante della motonave MSC Fabienne, già ricercato per associazione finalizzata alla produzione, traffico, detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti in concorso. Il 35enne ricercato dalla polizia di diversi paesi sarebbe stato a capo di un'associazione dedita al traffico di droga fra Inghilterra, Montenegro, Africa e Italia. L'ex assessore regionale Nino De Gaetano lascia i domiciliari ma dovrà stare lontano da Reggio e dalla Calabria. Così ha deciso il G. Polga Tarsia, che su istanza dei legali ha disposto la gestazione degli arresti domiciliari per l'ex politico coinvolto nell'inchiesta rimborsopoli, un provvedimento che soddisfa in maniera parziale le richieste del collegio difensivo dell'ex componente dell'Aggiunto Oliverio. Una donna di 80 anni è stata rapinata, Mirto Crosia, da due persone con il volto coperto. I gnoti si sono introdotti nella sua abitazione e dopo averla legata con del nastro adesivo hanno messo a suo quadro la casa in cerca di denaro. I ladri hanno portato via 250 euro dopo aver prelevato il contante, hanno liberato la donna e si sono allontanati. È stata la stessa vittima ad avvertire i carabinieri. Grazie a tutti.